All'interno degli uffici di ITL Group di Budapest oggi incontriamo Maurizio Sauri che è responsabile dell'area Est Europa e Russia per l'Ansaldo Sistemi Industriali S.P.A. Una presenza, quella di Ansaldo, che prende piede ormai da diversi anni in Ungheria, nelle varie specifature, nei vari cambi di assetto. Una realtà industriale non solo in Ungheria ma nell'Est Europa che si sviluppa sostanzialmente su due core business, su due settori industriali. I core business di Ansaldo Sistemi Industriali storicamente sono quello dell'automazione industriale che rappresenta appunto una delle due divisioni che trova applicazione nei sistemi siderurgici, negli impianti che utilizzano grandi potenze, quindi nei meters in particolare e nella divisione che produce motori drive, motori elettrici, dai motori utilizzati nel settore del petrolchimico per anti-esplosivi e nei grandi motori per la movimentazione delle navi, quindi per la propulsione navale. Allora abbiamo parlato di Metals, vogliamo dare un accenno, anche un periodo forse in cui si inizia a intravedere una ripresa dopo un periodo di crisi a livello globale? Sicuramente i mesi scorsi sono stati caratterizzati da una caduta verticale del mercato siderurgico legata alla crisi mondiale finanziaria che ha colpito in particolare i settori dell'auto e delle infrastrutture in cui l'utilizzo dell'acciaio evidentemente è significativo e preponderante, quindi questo ha costretto molti produttori, alla maggior parte dei produttori siderurgici a ridurre al minimo le loro attività produttive, in alcuni casi anche alla fermata degli altoforni, in quanto gli stock che si erano costituiti erano sovradimensionati pensando ad un aumento costante della domanda, questo ha provocato una caduta di questo mercato per quel che ci riguarda il fermo di molti progetti che erano in fase di finalizzazione. Oggi si intravedono alcuni piccoli segni di ripresa di questo settore, ancora timidi, speriamo che nei prossimi mesi le cose comincino a migliorare ulteriormente. Per quanto riguarda invece un altro settore fondamentale della nostra attività che è quello dell'oil and gas, la fermata non è stata così brusca come nel settore siderurgico, c'è stato sicuramente un rallentamento che però in questa fase sta dimostrando dei segni positivi, nel senso che ci sono delle manifestazioni da parte dei grandi clienti dell'oil and gas, in particolare in Russia, quindi ci riferiamo evidentemente in primis a Gasprom e alle società collegate, stanno ripartendo con investimenti che erano stati paralizzati per un certo periodo di tempo. Restando a questo secondo ambito della vostra attività, possiamo anche probabilmente fare riferimento ad un progetto di cui da mesi si sente parlare, di cui avete un ruolo molto attivo, sto parlando di Nabucco? Sicuramente, Nabucco è uno dei progetti che ci interessano da vicino, non è l'unico, ma sicuramente quello che riguarda l'Ungheria, a differenza degli altri. Nabucco è un progetto prioritario per il sistema europeo perché renderebbe indipendente dalla Russia il rifornimento energetico, quindi ha una valenza politica, dovrebbe partire con investimenti concreti nel giro dei prossimi mesi, quindi ci sono tutti gli studi di fattibilità in corso, gli studi di ingegneria stanno portando avanti le loro attività, quindi questo dovrebbe consentirci di avere delle attività specifiche su tutti i paesi che vengono interessati del progetto e naturalmente anche dell'Ungheria. Lei ha accennato, diceva Nabucco, ma non solo? Sì, nell'area che riguardi trasporto e approvvigionamento di gas e petrolio ci sono altri progetti importanti che però partono dalla Russia, quindi parliamo di Nord Stream e South Stream, sono entrambi i progetti che verranno realizzati, ci coinvolgono come subfornitori dei main contractor che operano direttamente a contatto con Eni e con Gazprom, evidentemente la cosa ci interessa molto, tant'è vero che ultimamente abbiamo stretto degli accordi diretti con società di Gazprom che vedono a saldo inserita nella vendor list del gruppo russo. A questo punto noi siamo in conclusione, il mio invito è rincontrarci per vedere, parlare, discutere e analizzare i risultati di quello che sono i progetti in corso, dicevo siamo in conclusione, ci fanno il mio qua, io ringrazio molto per la sua partecipazione e la sua presenza Maurizio Sauli che ricordo è manager dell'area Est Europa e Russia per Ansaldo Sistemi Industriali e S.P.A. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.